che cosa succede quando una figura è divinizzata che si innesta quella percezione narcisistica di successo di superiorità che poi ti porta a trattare il resto del mondo alla stregua della spazzatura ed è molto grave perché anche le gare che ci sono oggi sui media del quanto costa il tuo outfit che era un format veramente interessante antropologicamente parlando perché ti faceva capire come i ragazzi di 13-14 anni avessero già una pressione sociale da parte del mondo esterno sul modo in cui questi si vestivano il tentativo era quello di far vedere che io avevo le le jordan limited edition prese dal reseller avevo la maglietta di thrasher di cui ne esistono cinque esemplari e ho 12 anni per cui sono impossibilitato sicuramente ad avere una fonte di reddito di qualsiasi tipo è un grandissimo specchio della società che dovrebbe allertare moltissimo tutti noi che ci viviamo in mezzo farci capire che certi valori personali hanno subito una mutazione l'idea di rincorrere l'oro per l'oro cioè il soldo è l'ultima cosa che voglio avere nella mia vita il soldo non è più un mezzo ma è il fine diventa problematico diventa problematico perché poi creerà dei momenti di forte depressione di forte vuoto interiore che saranno difficili da colmare quindi Grazie a tutti.